salve amici oggi apro con una notizia un po così infatti questa notte alle 4 ora italiana ci sarà il match famoso almeno in america se ne sta parlando fra jake paul e mike tyson uno è uno youtuber diventato pugile professionista e l'altro è mike tyson che non ha bisogno di certo presentazioni quindi soprannominato iron mike kid dynamite e il più cattivo essere umano sul pianeta non a caso insomma il mitico mike tyson è stato un grandissimo campione di pesi massimi ma poi è diventato anche famoso come sgranocchiatore di orecchie infatti poi ne fecero anche la versione in cioccolata in ogni caso fra questi due c'è stata la cosiddetta pesatura ieri e cosa poteva andare storto fra un 58enne e un 27enne gradasso che fa lo youtuber beh sono volati gli schiaffi ora uno direbbe a mike è sempre lo stesso ma non era diventato una sorta di pacifista anche se lo abbiamo visto se ve lo ricordate anche prendere a pugni la tempesta qualche tempo fa in realtà mike è cambiato nel senso è un uomo molto più maturo adesso nonostante i suoi trascorsi e non è che ha preso a schiaffi un 27enne così senza un motivo in realtà il motivo c'è stato e si vede molto chiaramente che il lo youtuber lo ha provocato molto male insomma vedete questa è stata la scena quando si sono avvicinati lo youtuber è arrivato come un gorilla in scarpe indossando delle scarpe mike invece a quel punto era in mutande e in calzini e lo youtuber tac gli ha schiacciato l'alluce e quindi questo non si fa giustamente mike lo ha preso ammanate e vabbè quindi vedremo come finirà lo scontro di questa notte però non sono di certo impazzito che oggi vi parlo di pugilato colgo l'occasione anche per parlare di uno dei più grandi pugili del nostro tempo vasil lomachenko considerato un vero fantasista per quanto riguarda i pesi leggeri pesi piuma è un grande campione giovanissimo fra l'altro non ha non ha che 36 anni anche se sta a medita secondo alcune voci di corridoio sta meditando di lasciare la carriera anche perché fra l'altro ha tanti interessi sempre sportivi che tira avanti con cui tira avanti e ha avuto qualcosa come 411 combattimenti di cui 408 vinti è considerato più grande campione nella categoria amatoriale poi anche vinto due medaglie d'oro olimpiche un campionato europeo e poi è diventato campione anche per quanto riguarda pesi piuma pesi leggeri vasili è un grandissimo campione figlio d'arte da uno da quello che è considerato più grande allenatore ucraino perché è nato ad essa lomachenko è ucraino a tutti gli effetti e il padre lo ha plagiato formato letteralmente plasmato per diventare un grande campione tanto che prima di fargli fare pugilato che si è iniziato giovanissimo gli ha fatto fare tipo credo qualcosa come due anni di danza classica proprio per fargli lavorare sulle gambe e non a caso il pugile è considerato un vero e proprio portento nel senso la sua tecnica incredibile associata a dei movimenti fulminei sulle gambe lo rendono davvero straordinario da guardare ora sapisco che magari fra di voi non ci sono tanti appassionati ma vi assicuro che vedere i combattimenti di lomachenko è qualcosa di incredibile cioè alcune alcune alcuni passaggi dei suoi combattimenti vanno visti a rallentatore perché talmente veloce che non si riesce a cogliere le le sue le sue prodezze in sostanza riesce a girare intorno all'avversario e a colpirlo da angoli inaspettati lavorando tantissimo proprio con le gambe e fra l'altro poi è di una rapidità incredibile e in sostanza un vero campione la sua storia particolare voglio dire tanta roba se lo cercate ci sono anche i suoi match su su youtube e fra l'altro nel 2022 si è arruolato anche lui nell'esercito per contribuire a quella che è stata l'invasione qui lo si vede per esempio nell'anno di militare che ha in cui ha servito il paese questo fra l'altro secondo alcuni ha inciso anche sulla sua performance infatti un anno dopo nel 2023 ha partecipato per il titolo di campione del mondo proprio per i paesi leggeri contro l'americano devin honey ho visto questo incontro e devo essere onesto effettivamente l'omachenko mi è sembrato un leggero leggermente sotto tono rispetto a un dominio assoluto che aveva dimostrato sul ring fino a quel momento e qui il combattimento si è svolto molto più alla pari però comunque c'era una superiorità tecnica da parte sua in ogni caso straordinario tanto che secondo molti e questo è anche la mia personalissima opinione secondo molti il match lo ha perso perché era truccato perché in qualche modo gli americani volevano mantenere il titolo in casa questo è un po' il giudizio di molti anche perché onestamente il pubblico era andato letteralmente lì per vedere lui compresi molti molti vip dello spettacolo però insomma non sono solo io a dirlo quindi restiamo per quanto riguarda sempre sul tema ucraino e sui sacrifici che la popolazione compie e sulle vittime fra i civili qualche giorno fa vi avevo parlato di questa famiglia l'ennesimo padre che sopravvive alla perdita di moglie e due figli diciamo che la notizia ha girato per il paese e questi sono per esempio alcuni soldati che sono arrivati lì per il funerale che non sono riusciti a trattenere le lacrime è chiaro che è un enorme sacrificio per l'ucraina questo periodo storico non sono lì a combattere per soldi come fanno i russi non sono lì per la follia di un dettatore stanno lì per difendere il proprio paese nonostante la follia di questa guerra per rispondere ad alcuni commenti dei giorni scorsi in cui qualcuno mi chiedeva ma ma i soldati russi che cadono in battaglia che fine fanno è possibile che non le famiglie non ricevano l'indennizzo e come funziona beh sappiamo poco e sappiamo tanto un po questi due estremi questo è un video per esempio realizzato da un soldato russo si vede in lontananza questo è un grandissimo è una collina fate conto con un edificio e questa è una ruspa e quello che filma questo soldato è appunto quello che fanno i russi con i soldati caduti qui si parla di 6.000 corpi nella regione del Donetsk accatastati lì ci sono anche altri video questo non ve lo posso far vedere è una strada è una stradina e questo soldato russo letteralmente cammina è a destra e sinistra è disseminato di quelli che erano i soldati una volta ecco non posso usare le parole le parole più appropiate comunque ecco poi arrivano anche dei filmati questo è arrivato proprio oggi di un tiktoker cinese fra l'altro ho avuto anche dei commenti cinesi nei giorni scorsi quindi so che i miei video vengono tradotti anche in cinese adesso oltre al russo chi vuole intendere intenda significa che sto facendo un buon lavoro forse sono contento mi preoccupa un po' però voglio dire succede era prevedibile che sarebbe accaduto comunque per tornare sul tema questo video viene da un tiktoker cinese a Mosca in cui ha registrato l'arrivo di alcuni invalidi di guerra questi sono soldati che tornano dal fronte ora è un po' particolare il discorso da fare nel senso è chiaro che questi sono tutti feriti la maggior parte a causa dei droni se vedete quelli insomma che hanno perso delle gambe per quello altri per le schegge perché queste schegge poi sono piccole ed è molto difficile estrarle quindi spesso rimangono nel corpo tutto questo mentre il personaggio qui in questione si lamenta dice che almeno queste sono le voci del cremlino da parte di Peskov e Lavrov in recenti interviste i suoi portavoce insomma si lamentano del fatto che l'aereo presidenziale a quanto pare ha difficoltà nel fare rifornimenti intermedi quando deve per esempio visitare l'Africa o il Sud America e si lamentano di questa cosa dicono che non è giusto che l'aereo presidenziale e lo staff che lo accompagna devono potersi rifornire c'è solo un piccolo dettaglio appena appena trascurabile il fatto che giustamente Putin è ricercato in tutti i paesi occidentali e quindi è normale che c'è sia una sorta di rifiuto nell'assisterlo a Giron Solare liberamente per il mondo ci mancherebbe voglio dire tutto questo mentre la Russia notizia anche questa piuttosto fresca fa transitare tranquillamente sul proprio territorio e diretti al fronte pezzi di artiglieria nordcoreani queste sono forniture nordcoreane che vanno direttere verso il fronte ora uno direbbe ma è possibile che i russi siano accorti dei pezzi di artiglieria in realtà nì nel senso hanno ancora molti pezzi da 122 mm e da 152 mm ma per quanto riguarda i cannoni 2S7 da 203 mm hanno raggiunto come si vede in queste immagini classiche di magazzino hanno raggiunto il fondo e quindi questi mezzi abbandonati che vediamo probabilmente non sono neanche recuperabili a questo punto è chiaro che l'alleato ucraino torna comodo e chiaramente l'Ucraina mica si fa gli scrupoli a fornire armi alla Russia ormai di certo ecco è un fatto che questo non sono io a dirlo ma già molti denunciano la cosa è un fatto che in cambio la Russia sta accedendo alla Corea del Nord tecnologie e questo è un video celebrativo della classica propaganda becera nordcoreana che mostra appunto componenti e armi russe testate sul campo qui si parla per esempio questo questi sono i droni Lancet per esempio che sono tipici russi quindi sì nel frattempo la Russia continua a dare fastidio nel mare del nord ora questa è una notizia che riporto anche se non ho ancora conferme ufficiali da parte del ministero della difesa italiano però ecco Jürgen Naudit giornalista tedesco riporta che un pattugliatore marittimo questo qui russo affiancato a dei su-33 siano stati intercettati sulle coste norvegesi da F-35 norvegesi che vediamo in questa immagine e da Eurofighter italiani questa è la notizia che lui riporta in realtà nel ministero della difesa italiano non si parla di questo recentemente ma del fatto che continuano a esserci come sappiamo in Italia le notizie di questo tipo arrivano tardi in genere però dicono almeno in linea di massima dicono che ci sono continui allarmi di sconfinamenti da parte russa nel mare del nord e siccome l'European Air Force scusate l'European Air Group cicla le proprie forze aeree per la protezione anche dei paesi terzi come fa anche la nostra aromatica militare italiana come ha fatto per esempio a settembre nei cieli della Polonia oggi possiamo pensare che si trovi in Norvegia un nostro contingente qui in questo articolo parla del 27 ottobre quindi pochi giorni fa quindi difesa aerea decollo immediato di due caccia Eurofighter in servizio d'allarme per intercettare un velivolo civile dicono così quindi non ho notizie fresche si parla di continui scramble scramble è un linguaggio tecnico che utilizzano anche nei telegiornali e quando si decolla su allarme e se c'è un aereo che non risponde alle chiamate sconfina senza transponder o senza rispondere alle chiamate a quel punto i caccia si sollevano in volo per capire chi è e chi non è anche in questo articolo su ildenaro.it che riporta F-35 italiani che intercettano caccia russi nello spazio aereo NATO quindi sicuramente ecco si tiene d'occhio la situazione tutto questo mentre comunque ecco notizia che devo riportare per quanto riguarda le informazioni che arrivano dal pentagono che è un po' l'esecutivo da un punto di vista militare per quanto riguarda le dichiarazioni insomma le dichiarazioni politiche sono una cosa come sappiamo l'equivalente del ministero della difesa americano è un'altra cosa quando fa dichiarazioni vuol dire perché dichiara lo stato di fatto delle cose o quanto meno qualcosa che è già programmato e infatti il loro portavoce ha detto che essenzialmente l'impegno americano in Ucraina continua non è che stanno aspettando l'insediamento di Trump ci sono alcuni alcuni processi in corso di sostegno militare all'Ucraina che continueranno nonostante l'amministrazione Trump questo insomma dovevo riportarlo passiamo a notizie brevi per quanto riguarda gli aggiornamenti del fronte dal fronte e parliamo subito delle azioni ucraine infatti questa notte ci sono stati circa una cinquantina una sessantina di droni ucraini che hanno raggiunto il caucaso e in particolare l'aeroporto di Krymsk ci sono anche i filmati della contraerea nazione in azione si sono sentite anche delle esplosioni Krymsk ecco questo è il video dove si vedono i traccianti e le esplosioni Krymsk è questo aeroporto qui queste sono immagini satellitari fresche del 10 scorso cinque giorni fa anche se sono riuscito a vedere l'aeroporto nonostante una certa copertura di nuvole Sentinel 2 ottimo satellite anche se ha una precisione nell'ordine dei 60 metri come vediamo l'aeroporto questa è una notizia quindi importante se è stato colpito beh 5 giorni fa scusate queste sono immagini del 24 ottobre non di 5 giorni fa quindi 15 una ventina di giorni fa su questo aeroporto vediamo parecchi parecchi aeroplani schierati non sono grandi quindi non sono bombardieri presumo siano su 30 su 35 tutti distribuiti sugli apron 1 2 3 4 5 tutte le aree di parcheggio sono piene di aeroplani questo avveniva 20 giorni fa 25 giorni fa e quindi penso che la situazione fosse se è stato colpito ieri questi aeri erano in zona erano ancora qui non è che sposti interi reparti così da un giorno all'altro queste immagini arrivano da più lontano sono di google maps e mostrano la situazione prima del conflitto dove comunque c'erano dei contingenti di su 30 e altri mig 29 su 30 molti di questi aerei quindi vengono utilizzati oggi nel conflitto quindi è un ottimo colpo per quanto riguarda i droni ucraini e spero di riuscire a mostrarvi delle immagini che con i danni riportati dalla struttura nei prossimi giorni parliamo della situazione al fronte molti parlano appunto della situazione nell'area di kursk dove i russi stanno cercando in tutti i modi di riguadagnare terreno schierando numeri impressionanti di unità qualcosa come 50.000 soldati nell'area di kursk che come vi ho già riportato nei giorni scorsi vanno incontro a una fine diciamo piuttosto scontata perché un assalto frontale così a tutta velocità non porta a un vantaggio tattico cioè non in questi termini nonostante questo comunque questa offensiva che è un vero e proprio carnaio a nord le azioni russe si sono infilate in una vera e propria imboscata che nei giorni scorsi ha portato alla perdita di decine di mezzi lo stesso avviene a ovest come vedete tutti questi sono rapporti molto freschi di ieri l'altro ieri tutti i mezzi distrutti che vengono intercettati che colpiscono mine o incontrano i javelin che sono degli spalleggiabili anti carri armato e in più si è aggiunto questa linea del fronte sempre nella regione di kursk in cui c'è un'avanzata russa da est quindi in questa direzione e anche qui come vedete ieri gli ultimi rapporti di carri distrutti btr mtlb mtlb questi sono tutti mezzi per il trasporto di uomini che sono arrivati fino a plecovo per quanto riguarda gli altri aggiornamenti significativi vediamo interventi ucraini sulle posizioni russe qui in quest'area qui in quest'area di cui vi ho parlato ieri dove c'è stato un assalto molto di sola andata da parte russa che a tutta velocità sono corsi lungo questa strada molto dritta sono arrivati fino al centro di Selikov e e qui però hanno incontrato la loro fine quindi questa questa avanzata è stata neutralizzata nel frattempo però i russi hanno occupato quest'area boschiva e da qui stanno lanciando altri assalti per quanto riguarda invece l'area di Chasiviar anche qui si segnalano attività come potete vedere questo ve l'avevo anticipato nei giorni scorsi segno che qualcosa si stava muovendo infatti qui gli ucraini hanno perso dei mezzi significa che insomma i russi sono presenti in quest'area stanno cercando evidentemente dato che la linea difensiva di Chasiviar troppo dura da superare stanno provando a sfondare da sud un po' come è successo nell'area di Pokrovsk concentrandosi più a sud andiamo a vedere fra l'altro l'area di Toresk anche qui i russi hanno intensificato gli attacchi aerei con droni e di artiglieria questi sono tutti i lanci in TOS da parte dell'aviazione russa come vedete attaccano le posizioni ucraine da parte ucraina invece c'è un lavoro continuo incessante di droni con lanci ecco a domicilio ad personam qui più a sud vediamo un enorme tentativo russo di riprendere posizioni che ha incontrato la rottamazione devo usare sempre parole diverse da quello che vorrei qui su youtube e poi se guardiamo l'area di Pokrovsk tutte queste tutte queste icone sono attacchi dell'altro ieri con droni lanset da parte russa segno che si stanno concentrando sulle retrovie ucraine e che vorrebbero raggiungere Pokrovsk da questa direzione nei prossimi giorni tanto che appunto qui ieri sono riusciti anche a distruggere delle unità ucraine come vi dicevo se l'attacco frontale non riesce perché c'è questo sbarramento difensivo da parte ucraina stanno provando ad aggirarlo da sud in questo modo la situazione invece più a sud in quella che era la vecchia area di Vugledar la situazione è rimasta invariata ma vediamo che gli ucraini sono riusciti a distruggere parecchie unità russe in quest'area anche se i russi continuano a usare l'aviazione e i droni anche qui gli ucraini sono riusciti a colpire con artiglieria le posizioni russe vicino al fiume e questo è quanto vicino al lago scusate nell'area di Zaporizia non si segnalano altre attività se no molto più a est tutte queste sono interventi degli operatori dronici ucraini e questo è quanto quindi per concludere vi lascio con le immagini visto che anche qui un utente mi aveva chiesto nei giorni scorsi mi aveva detto ma il Mi-24 ucraino non è un elicottero vecchio che non serve più a niente non direi questo è un classico video che ci dimostra quello che può fare questo vecchio elicottero semplicemente abbassa un po' il volume scusate semplicemente arriva a tiro tira i suoi razzi non guidati e se ne va questa è una classica missione in cui si lanciano dei razzi come un po' il tiro che farebbe l'artiglieria con questi razzi che sta lanciando fondamentalmente sta lanciando è una rastrelliera per S8 com questi sono razzi che hanno una piccola testata esplosiva frammentazione quindi funzionano né più né meno come una sorta di artiglieria non sono precisi specialmente se li tiri così a palombella perché l'elicottero come vedete cabra tantissimo alla distanza desiderata tira questa salva e la salva poi va a colpire ad area fa una vera e propria rosa di impatto stiamo parlando di una distanza di una decina di chilometri non di più dall'area che si vuole colpire non sono missili a lungo raggio ma letteralmente dei razzi non guidati come quelli di capodanno però molto più cattivi ecco diciamo così e questo è quanto come sempre mi raccomando se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace anche a questo video e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se avete proposte richieste insomma scrivetemi quindi un abbraccio alla prossima e un abbraccio e un abbraccio